Appuntamento di apertura della stagione serale 2019 del Teatro Francini di Casalguidi, promossa dalla Comune di Serra Valle Pistoiese e dall'Associazione Teatrale Pistoiese. In scena sabato 23 febbraio alle 21 Lorenzo Baglioni con lo spettacolo prodotto da Riddens, Bella Prof, da lui scritto e di cui ha curato le musiche assieme a Michele Baglioni. Lorenzo Baglioni, questo personaggio particolare che come si dice lui di se stesso è uno che ha tanta confusione in testa perché è cantante, attore, musicista, scrittore e l'anno scorso era stato come cantante appunto a festa di Sanremo con la canzone congiuntiva e quest'anno appunto si è dato al teatro che ha già percorso in passato spesse volte con il Teatro di Riffredi, fa questo spettacolo chiamato Bella Prof perché in quanto anche lui è proprio un insegnante per cui spesso prende in giro un po' le cose dell'insegnamento, per cui già Sanremo cantava congiuntivo, si è occupato della matematica, della trigonometria, per cui in maniera anche ironica di rappresentare la scuola. Lorenzo Baglioni, 31 anni, toscano doc, laureato in matematica con una specializzazione in calcolo delle probabilità ma prestato allo spettacolo. Lui stesso si definisce un artista con una chiarissima confusione in testa, cantante, musicista, attore di cinema e teatro, comico, autore e regista.